Mi devo calmare, mi devo calmare, mi devo calmare Mi devo calmare Ah, ah È finta, è finta, è finta, è finta Attenzione, nel video sono presenti ironia, provocazione ed esaltazione dell'ego Se siete persone dall'animo sensibile potreste rimanerne offesi Ma di brutto 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 Dicono che il fumo faccia atmosfera E allora Oggi, se sei venuto qua, significa che non vuoi cazzatine Vuoi solamente sapere cose vere, cose scientifiche, niente La cinofilia, la psicologia, l'etologia, non sono scienze inesatte Scienza inesatta, una scienza inesatta è la scuola di pensiero Non esistono scuole di pensiero Scuole di pensiero non esistono Io faccio sempre l'analogia con la dieta Non sto parlando di gente che ha problemi seri Io sto parlando di te Tu vai dal dietologo Il dietologo ti dice Devi mangiare di meno Non puoi mangiare questo Devi mangiare sano Tu non ne vogli fare questa cosa Perché è uno sbattimento, richiede tempo E allora cosa fai? Cerchi tra i santoni delle diete miracolose Che ti dicono Bevi questa cosa liquida Mangia solo Non mangiare i carboidrati Fai queste cose qua E non succede niente Alla fine tu c'hai sempre la pancia E cerchi sempre queste diete miracolose Passando da un dietologo A un santone A uno sciamano Eccetera eccetera Quando la soluzione è lì sotto al naso Ed è quello che ti dicono la maggior parte dei dietologi Mangia di meno Mangia più sano Fai attività fisica Scienza Faccio la stessa analogia con l'educazione cinofila Che è il mio campo Il problema dove sta? E che mangiare purtroppo Devi mangiare È una cosa che devi fare Quindi avere a che fare col cibo È una cosa difficile Soprattutto per chi ha dei problemi seri Il cane è una tua scelta E purtroppo con la disinformazione che c'è in giro Non si sa ciò che si dovrebbe sapere Quando ci si cerca di guardare intorno C'è una confusione totale E i proprietari giustamente vanno in crisi Non sanno più che cosa pensare E lui si appoggi a me Nell'educazione cinofila Non esistono scuole di pensiero Esistono studi scientifici Fatti da etologi Scienziati Psichiatri Psicologi Gente che ha vinto premi Nobel Gente che io ho studiato E tanta gente seria come me Ha studiato Per poi arrivare ad oggi In cui arriva sta gente Che arrogantemente Molto molto arrogantemente Se ne esce con la frase tipica Io ho un'altra scuola di pensiero Io sono di un'altra scuola di pensiero Io appartengo a un'altra scuola di pensiero Ma come cacchi Che scuola di pensiero è? Ma quanto devi essere arrogante Per dire che tu hai una scuola di pensiero Ti inventi le tue cose E vai in giro a dire che la tua è una scuola di pensiero La tua scuola di pensiero Di te signor nessuno Con tutto il rispetto Signor nessuno Ti vai a scontrare Con più di un secolo di studi Di gente Che ha scoperto Delle cose Che tu oggi vuoi contestare Perché tu Sei di un'altra scuola di pensiero Della tua scuola di pensiero Quello che io vado dicendo Non sono frutto delle mie fantasie Delle mie invenzioni È frutto di un'osservazione Di tanti anni Che ha portato a degli studi Che ho fatto E questi studi Non sono una scuola di pensiero È scienza La scienza Significa qualcosa di dimostrabile Io posso dimostrarti tutte le volte Che se tu mi dai un cane Questo cane non manifesterà Disturbi comportamentali Perché io applicherò Scientificamente Delle pratiche Delle routine Che porteranno il mio cane A non manifestare Quei comportamenti Quando è che uno inizia a dire Sono di un'altra scuola di pensiero Quando non è in grado Di applicare le cose Che si studiano E si inventa le cose Per giustificarlo Questa è l'unica L'unica mia Conclusione A cui sono arrivato Perché non esiste Un'altra spiegazione Ci sono un sacco Di dicerie in giro Io ho fatto Pugilato Per 8-10 anni E tutte le volte Mi vedevano a dire Ah ma quando ti scrivi A Pugilato Ti rompono il naso Apposta Perché così Poi dopo Col naso rotto Le spieghi anche le cagate Ma dove l'hai sentito sta cosa Una diceria con cui Io mi scontro sempre Su queste Oh ma non si può fare il tiratira Perché il tiratira Poi eccita il cane Perché il predatorio Perché qui Perché poi morde No raga No raga Non ci siamo Non ci siamo Questa cosa qua Giocare con la pallina Giocare col frisbee Va benissimo per il cane Va benissimo assolutamente Va fatto nel modo corretto Perché c'è gente convinta Di stare Mi devo calmare Mi devo calmare Mi devo calmare Mi devo calmare Ah Ah È finta È finta È finta È finta Purtroppo Queste dicerie Saltano fuori Perché C'è molta poca conoscenza In giro E quindi Le informazioni che viaggiano Vengono un po' distorte Dal passaparola E si creano delle convinzioni Perché non esiste Ad oggi Un ente Che dica Tu sei un educatore E Dici cose giuste Mentre tu sei Un qua 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 Non esiste Non c'è un albo Degli educatori cinofili Ci sono 7000 tipi di diplome Dell'Encef CCCP FCI GGBGG È un gran casino E ognuno dice la sua Quando di base Quando tu dici la tua In un ambito Scientifico Che si basa sugli studi Di altri scienziati Cioè di scienziati Non come noi Di scienziati seri Scienziati veri Che hanno fatto gli esperimenti Ok Tu Ti metti nella posizione Di andare contro Queste cose Sostenendo che Secondo te Questa cosa non va bene Secondo te Ecco dai La cosa è molto semplice I miei cani Non hanno Un disturbo Comportamentale Non hanno paura Dei botti Non hanno paura Dei tuoni Non hanno paura Delle persone Non sono aggressivi Nei confronti di cani Né di bambini Né di persone Né di automobili Né di mezzi Di nulla Sono obbedientissimi Sono tranquilli Non sono eccitati Perché io Gli faccio Questi giochi Ok Perché Perché ho applicato Semplicemente Le teorie Basate sui esperimenti Non basati sui sogni Colloppio Di queste persone Che hanno tramandato La loro conoscenza A noi posteri Che ne stiamo facendo Come al solito Un uso pessimo Quindi penso Molto semplicemente Che fidarsi Di un educatore cinofilo Oggi diventa Un po' difficile Per voi Perché Non si sa più A che cosa dare retta E su chi fare affidamento Perché Perché c'è una grande confusione E questa confusione Arriva semplicemente Da Da gente Che Si convince Io non capisco come mai Di tante cose Che sono assolutamente False E E poi niente Poi io devo Devo fare tutte le volte Le solite discussioni Per Per smontare queste tesi Nate da Un signor nessuno Una signora nessuno Che Che non lo so Evidentemente Non hanno Abbastanza Pudore Che 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 Ah!